Adesso vi facciamo vedere come si procede alla produzione di un punto di una canna da parma. Abbiamo preso un attimo al libro e come potete vedere ha un'anima estremamente sottile. Si parte da uno 0,5 in punta per arrivare a 5.000,6 mm sul fondo. Il mangine è stato preparato ed è pronto per essere lavorato. E qui invece taglia le varie sede di carbonio necessarie per coprire questo. Dopo aver preso il primo spi delle varie giugure, procede al taglio. In questo momento tagliamo uno dell'unidirezionale alto mondo. E segna come deve essere percorso. Il nostro materiale è attraversato delle varie giugure. Come potete vedere, come è un'altra legge, mettendo con il nostro città, il nostro città, il nostro città, il nostro città e il nostro città, per le varie giugure di questa canna. Volevo soltanto evidenziarti questo. Il nostro materiale con una carta rosso, rosso Ferrari, perché la Ferrari applica il nostro città in qualsiasi tipo dei loro prodotti, è il carbonio che si vende e che noi lo utilizziamo per la costruzione delle canne da pesca. E anche questo frutto verrà utilizzato. In particolare, la stessa corrispondente è questa. Ora andiamo a prendere il nostro città, che possiede un prestaggio delle varie palle di capelli. in particolare. Continuiamo con la prima barba. La retta contenuta nell'unidirezionale si permette... La la prima barba... La prima barba... Attaccata al mandrino... tenendo di dosi... Più le ori. Attaccati e attaccati. Il materiale rimane finito. Seconda terra... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora, le pere sono state completamente prezzate sullo vino, a questo punto si procede con l'avvolgimento del vino progettivo per poi essere in contratto.